Andrea Tosi è il profilo del fidanzato, avete visto le immagini, le immagini che state vedendo sono del fidanzato, anzi ex fidanzato come sta confermando il consulente di parte della famiglia di Greta e poi c'è Andrea Tosi, Andrea Tosi era l'amico, chiamiamolo così, per cui se mi mettete queste due foto, queste due immagini ragioniamo su queste due persone. Tra queste due persone però oggi l'indagato non è l'ex fidanzato, l'indagato è l'amico di Greta, vede queste foto così, adesso ragioniamo su entrambi, è veramente un mistero. Ora, paradossalmente però sembrerebbe più in contraddizione quello che è l'ex fidanzato, è lui che dice delle cose che i testimoni reputano non vere, a questo punto mi domando davvero ma chi fa le indagini, come le percepiamo noi che siamo la gente del popolo? Qui ci troviamo di fronte a un signore che oggi è accusato di omicidio preterintenzionale e abbiamo un ex fidanzato che peraltro ci tiene a dire che invece è ancora fidanzato, quasi a giustificare una situazione buona, idilliaca, di amore, che in realtà sembra dire delle cose che non corrispondono al vero. E quindi tra le due testimonianze quella che diventa più debole è quella dell'ex fidanzato, perché questo qua dice che è arrivato la domenica pomeriggio, insomma cioè a me sembra che ci sia più un velo che nasconde da parte dell'ex fidanzato che non di questo uomo che tutto sommato dice delle verità anche in maniera molto popolare, molto semplice. E invece la famiglia si vuole concentrare sull'ex fidanzato che ripeto non solo non è indagato ma per ora la sua posizione non viene proprio presa in considerazione dalla procura. Allora adesso vi faccio ascoltare la famosa denuncia, denuncia di scomparsa, una denuncia lunghissima dove lui, questo ex fidanzato, inizia a raccontare anche dei rapporti che Greta aveva con la famiglia, tra cui Simone che è qui in diretta. Vi faccio ascoltare questa denuncia e su questa denuncia non capiamo perché questo ex fidanzato, ovvero Gabriele, parlasse del rapporto diciamo conflittuale che aveva con i famigli, la mamma, anche con il fratello Simone e non sono. Simone dice non è vero, non avevamo nessun rapporto conflittuale, casomai il rapporto conflittuale Greta ce l'aveva proprio col fidanzato. Siamo pronti? Mandiamola in onda. La terza paura, molto più forte delle altre, era insorta dal fatto che i fratelli avevano trasmesso atti in procura a Como riguardo presunti maltrattamenti commessi da Greta nei confronti di sua madre. Questa cosa la uccideva moralmente. Mercoledì 1 giugno 2022, sentendola al telefono, mi accorsi subito che qualcosa non stava andando. Lei cominciò quindi a dirmi di avere seria preoccupazione, anzi viva paura, che i fratelli le potessero fare del male fisico attraverso brutte persone. In questa circostanza, da me ipotizzata, contestualizzo gli ultimi messaggi che Greta mi ha inviato venerdì 3 giugno 2022 e il sabato mattina successivo. Venerdì alle ore 14 e 15 tentava di chiamarmi ma io non le potevo rispondere perché al lavoro. Alle 17 e 24 mi inviava l'immagine di un'email. Quel venerdì ci siamo sentiti più volte tra le 17 e 30 e le 19. Ci saremmo dovuti vedere il sabato mattina a Verona, a metà strada, ma lei mi disse che sarebbe venuta lei a casa mia la sera di sabato per poi ritornare a Cattiepolo la domenica, in quanto lunedì aveva fissato l'atto notarile. Allora, continuiamo a sentire. Sulla denuncia di Gabriele, ad un certo punto si parla anche di un biglietto. Ascoltate. Cattiepolo è un'isola sul delta del Po a cui ci si arriva attraverso un unico ponte, peraltro video sorvegliato. La casa di Greta è nella piazza principale del paese. Arrivato a quell'ora tarda, decido di aspettare sotto casa sua nella speranza di vederla rincasare, in quanto lei è solita stare fuori casa e rincasare a tardanotte perché ha difficoltà a dormire e non vuole restare troppo tempo in casa da sola. Le lasciavo un biglietto sulla porta di casa con scritto Dunque, una denuncia di scomparsa lunghissima dove racconta tante cose, non è mica finita qua. Adesso ne abbiamo un altro pezzo. Allora, Lugli, è tutto molto ingarbugliato e misterioso. L'unica cosa che per ora sappiamo è che però la procura sta indagando lui, l'amico, quello che in teoria non c'entrava assolutamente nulla. Io sono molto sconcertato dall'attenzione di questa procura, devo dire, perché mi riallaccia a quello che dice Don Bruno. No, da questa notizia. Se questa donna era viva la mattina dopo, come fa a essere stata uccisa? Sembra ridicolo dirlo, ma molte ore prima. Questa specie di confessione, che poi ne ho viste tante, quello che dice basta, sì, sono stato io lasciatemi perdere. Cioè, non è una confessione ed era nota. Allora, la domanda è perché la tirano fuori da adesso? Che cosa hanno? L'omicidio pretentenzionale è molto costanziato, cioè fa presupporre una lite, ma poi vuol dire che questo ha occultato il cadavere. Dov'è l'accusa di occupamento di cadavere? Dov'è l'accusa di soppressione di prove? Io non lo capisco, guarda. Mi sembra che non ascoltare questi testimoni che hanno raccolto la famiglia e Edoardo Lucarelli, bravissimo quel solito, non ascoltarli sia per caso, sia assurdo. Fagli dire quello che hanno da dire, perché se è così cambia tutto. Cambia tutto. E invece questi qui, la procura, si arrocca, dice no, stanno sbagliando, non li vogliamo sentire, buona notte a secca. Io non lo riesco a capire, non mi sembra l'atteggiamento di chi cercava. No, ma mi colpisce soprattutto il discorso che ci deve stare dietro, perché per fare un'accusa di questo genere, o tu hai delle motivazioni profonde, si è spostata o controllato, cioè qualcosa hai per dire a una persona che addirittura è indagato per omicidio pretentenzionale, cioè è una, ripeto, è un'agogna mediatica terribile, in giunta, la persona si presta. Capito? Cioè, attenzione, perché poi molto spesso viene spontaneo, dire, eh sì, perché vedi com'è. Cioè, le persone sono persone, hanno tante storie alle spalle, hanno delle fragilità, e allora questo meccanismo tante volte diventa proprio una maniera di poter colpire maggiormente, perché è più fragile il personale. Però rendiamoci conto, Edoardo, qua abbiamo una donna che è scomparsa nel nulla, una denuncia di scomparsa di un fidanzato che dice che era fidanzato, ma non era così, almeno da quelle che sono le ricostruzioni che abbiamo trovato anche noi, ripeto, a livello giornalistico, fiorfiore di testimonianze che abbiamo. Dall'altra parte, un amico che dice che l'ha lasciata ad un certo punto di sera, di notte, perché non voleva stare con lei, abbiamo dei vicini che dicono che la mattina dopo l'hanno vista, intorno alle 11, a mezzogiorno, abbiamo dei vicini che raccontano una cosa diversa rispetto a quello che ha detto l'ex fidanzato. Un mondo. La procura però, per ora, sta indagando un'unica persona per omicidio, che è l'amico. Allora, noi quella macchina siamo andati a trovarla. Dimmi, Edoardo, guardate che è una storia incredibile. No, no, hai ragione, hai ragione, confermavo. È un rebus, è assolutamente un rebus quello della scomparsa di Greta. Non a caso, appunto, noi abbiamo preso a cuore questo caso, anche perché ovviamente la famiglia si sta battendo e vuole sapere la verità su questa donna che è scomparsa nel nulla. Come diceva Davide, ovviamente è scomparsa anche la sua macchina di cui parlavi. E ci sono tante incongruenze in un quadro che effettivamente la procura ha disegnato, diciamo, prima in un modo e adesso specificando questa accusa nei confronti di Tosi. C'è, diciamo, un aspetto che rileva particolarmente quello, e ha fatto benissimo Massimo a ricordarlo, che insieme al titolo del reato principale, ovvero l'omicidio pretentenzionale, ci sono ovviamente anche la sopprezione e la distruzione del corpo. Questo significherebbe sostanzialmente che la procura ha un'idea, magari un litigio, un litigio che è andato oltre e è finito male. È un movente, chiedo, che regge, diciamo, in una ricostruzione di questo genere, in una situazione tra Greta e questo Andrea Tosi? Ma non regge assolutamente perché l'unico movente dell'omicidio di Greta Sprafica è quello economico. Ricordiamoci che noi abbiamo un testamento, l'ultimo testamento di Greta, unicamente a favore dell'ex fidanzato. Voi non credete... Vuol dire tanto ma non vuol dire nulla, ma bisogna approfondire il movente economico perché l'unico movente plausibile è quello economico, Eleonora. E quindi la Procura lo deve fare assolutamente e noi ci batteremo. Abbiamo riaperto le indagini grazie alla nostra istanza di parte. Avvocato Barzan ha presentato una stanza di riapertura. Sentiamo un attimo. Barzan, scusami, però per ora la posizione del fidanzato è totalmente accantonata. In più c'è un'intercettazione dove Andrea Tosi avrebbe detto e parlato ricordiamoci che c'è un procedimento modello 21 quindi con un iscritto nel registo degli indagati a Como. Noi non sappiamo se effettivamente perché le indagini ricordiamo quale sarebbe l'ipotesi di reato circonvenzione di incapaccio. Ricordiamoci che invece a Rovigo c'è un'iscrizione o più iscrizioni. Noi non lo sappiamo perché le indagini sono ancora segretate e non abbiamo una discovery degli atti al momento Eleonora. Quindi non sappiamo se effettivamente è probabile anche che può essere contestato un 110 quindi un concorso in omicidio preterintenzionale. Non lo sappiamo. Ce l'auguriamo. Eleonora, volevo chiedere a Momo una riflessione su questo cioè al di là appunto di chi possa essersi come dire approfittato o comunque avesse messo gli occhi su questi soldi no? Esatto su questi soldi è possibile perché Eleonora ricordava correttamente che noi sappiamo di Tosi ma non c'è nessun altro insomma iscritto almeno in questo fascicolo i soldi di Greta e il suo stato potevano avere ingolosito qualcuno? Ma questo sicuramente nel senso che Greta comunque dopo la morte di nostro padre ha ereditato i beni di famiglia che il padre ha lasciato e noi fratelli insieme a mia mamma abbiamo fatto rinuncia anche alla quota di legittima per lasciare tutto a Greta per cui Greta ha ereditato un patrimonio questa casa non è parte dell'eredità di famiglia perché era già di Greta ha ereditato la casa di erba dove vive adesso mia mamma che ha l'usufrutto e altri beni immobili dei terreni che poi ha in comune anche con la zia eccetera Qualcuno potrebbe essersi approfittato qualcuno potrebbe essersi approfittato di lei ma tra l'altro nella stessa denuncia che fa Lietti dice che Greta aveva dei problemi neurologici e poi dici che Greta doveva raggiungerti fino a Como quando hai detto tu stesso che non erai in grado di guidare allora sa guidare non sa guidare può venire a Como vieni tu poi ritratti ma c'è una cosa giusta che ha detto in quella denuncia non c'è una cosa che quadra non ce n'è una Mistero prosegue Leonora allora vediamo ascoltiamo questi audio che ha mandato a Ezio Denti una cosa forse mai successa che una donna prima di scomparire un mese prima sentite qua un mese prima chiama un investigatore privato che non conosce che visto in televisione famoso e popolare chiama un investigatore privato per chiedere gli aiuto perché ha paura un mese dopo un mese e mezzo dopo scompare ora mandiamo un attimo la pubblicità ritorniamo fra poco e mandiamo questi audio in caso di disturbi gastrici avere un alleato può fare la differenza Biochetasi pronto ad aiutarti quando serve Claudia vuole sempre solo prodotti freschi con artisti della qualità Conad trova la freschezza che vuole lei selezionata da noi scopri le offerte della settimana una finestra è una finestra invece no Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce e la maniglia centrale è davvero elegante e puoi approfittare delle detrazioni del 50% un pezzo di design al prezzo di una finestra Ocnoplast le finestre di design Lint Choco Waffer cioccolato deliziosamente cremoso unito a croccanti waffer al cacao e ricoperto di pregiate nocciole tostate realizzato alla perfezione dai Maitre Chocolatier Lint Croccante cremoso da sogno mi rendo conto che sono molto agitata sono sicura che c'è qualcosa di grave che mi gira intorno e non ne ho la minima idea mi creda che io sono una persona molto pulita e trasparente io le voglio proprio sottolineare che quello che interessa a me da lei è capire perché qualcuno vogliono farmi del male io voglio una vita serena forse tutto quello che mi è accaduto è che io ho pensato in chiedere a qualcuno voglio solo vivere e mi creda io sono terrorizzata a morte e io non so se sono in grado di sopportare emotivamente questa cosa allora a che cosa si riferiva Greta non era oggi secondo noi un problema di paranoide come dire no ma veramente probabilmente visto che un mese dopo un mese e mezzo dopo Greta scomparsa nel nulla adesso addirittura si indaga per omicidio potete immaginare che quest'audio è importantissimo perché forse Greta davvero aveva paura di qualcosa o di qualcuno forse era una paura indotta noi non lo possiamo sapere brava continuiamo a sentire questa questa sua voce io ho paura e ne ho ben diritto adesso ero così felice tra l'altro che ho trovato il mio compagno una persona splendida perché se non ci fosse stata io oggi sarei non sarei più qui le confesso che sono estremamente impaurita e le ripeto che il mio motivo per cui l'ho cercata non è un motivo un movimento economico io voglio solo avere una serenità di non avere alcun più dubbio che qualcuno voglia farmi del male io non ce la faccio più cioè il fatto di essermi rivolta a lei è semplicemente perché so che non c'erano altre strade se non che qualcun altro mi facesse del male io spero che lei comprenda tutte le mie difficoltà e il mio stato d'animo però io ho paura mi creda io ho paura mi ha fatto venire paura appunto allora può essere lei ha sentito quest'audio una paura indotta da qualcuno da qualcosa che preparava il piano cioè è stata anche tacciata di essere sicuramente paranoica ma oggi voglio dire sai le paranoie voglio dire visto che si sta indagando per omicidio oggi voglio dire non mi sembra un mese e mezzo prima si si chiama chiama e chiede aiuto cioè non chiede aiuto a qualche familiare a qualcuno a indagare chiede aiuto a un investigatore privato scusami Simone ma questa cosa è strana cioè non ha chiesto aiuto a voi di famiglia no no certo allora Greta in quel periodo era molto irrotta con la famiglia perché il problema è molto semplice e lo stesso guarda la denuncia che hai letto prima fatta da Lietti Greta allora a parte che aveva avuto dei problemi aveva avuto dei problemi come si dice psichici era stato fatto anche un TSO all'ospedale di Cantù Greta seguiva delle cure presso una una dottoressa psichiatra la dottoressa Po quando poi inizia a frequentare il fidanzato smette queste cure Greta aveva delle manie di persecuzione che possono testimoniare i carabinieri della stazione di Erba l'hanno recuperata due volte dove diceva di non essere stata lei a fare la strage di Erba che gli ebrei la volevano uccidere perché è nazista cioè aveva questi momenti di non lucidità ecco ci sta che qualcuno possa essersi approfittato di queste sue paure è questo che a noi preme scoprire se qualcuno ha approfittato delle paure di Greta per indurla a farle delle cose Greta è stata allontanata dalla famiglia gli ultimi sei mesi Greta non si è rivolta alla famiglia semplicemente perché è stata allontanata dalla famiglia è andata a vivere con il fidanzato e in sei mesi è sparita e ha fatto un testamento a favore del fidanzato ed è sparita in sei mesi questa è la realtà delle cose cioè è andata a fare il testamento però guarda che tu con questo racconto però stai partendo con delle accuse belle pesanti Simone no io sto dicendo solo lo stato di Greta si può chiedere ai carabinieri si può chiedere all'ospedale di Cantù si può chiedere alla sua psichiatra non sto facendo accusa a nessuno sto dicendo che Greta era in quello stato psichico se vuoi Eleonora guarda ti do approfitto del fatto proprio 30 secondi che è passato qui da noi Alessandro Scabin che l'ha ospitata Greta per una quindicina di giorni ha dormito da te è stata da te perché non voleva dormire in questa casa succedevano mi raccontavi delle cose strane anche la sera con Greta si spesso alle notte quasi tutte le notti si svegliava che non voleva rimanere da sola mi chiamava dovevo andare lì con lei e star lì con lei perché aveva paura non so di cosa era terrorizzata è vero che ti diceva che vedeva delle persone vicino a lei è capitato una volta due che ha detto che ha visto delle persone sopra in camera che non c'era nessuno oltre a me era terrorizzata si ecco questa è la chiosa di questo racconto che faceva la Parsi Edoardo proprio da questo racconto si può essere che questa paura fosse stata indotta da qualcosa da qualcuno Parsi sicuramente questa paranoia che lei aveva non solo ma che le potevano far del male allora intanto è una persona che aveva delle dotazioni di ordine economico e delle possibilità quindi a quel punto riflettiamoci un attimo insieme se conoscendo delle persone lei desiderava cantare c'era tutto un discorso artistico eccetera quindi è una persona sensibile animata dalla creatività dalla voglia di esprimersi ma ci può essere una paranoia indotta? può essere certamente certamente perché già predisposta magari per una sua sensibilità maggiore una sua capacità eccetera può essere stata veramente in questo modo sarebbe interessante indagare a mio modo di vedere anche l'ambiente quando lei si rivolge all'investigatore dice io ho paura che qualcuno mi voglia uccidere per fortuna che ho vicino e gli viene messo il nome però si sa chi è che lei è vicino allora vuol dire che in qualche maniera lei quando decide di rivolgersi all'investigatore ha comunque parlato di questo problema a questa persona che ha vicino e sarebbe interessante sentire questa persona e dire che cosa diceva in questo perché aveva paura a doppia ragione credo che qua la procura dovrebbe indagare approfondire il rapporto di questo signore e che cosa e perché le diceva che aveva paura perché lei ripeto quando si rivolge all'investigatore fa allusione allude alla persona che ha accanto allude a gente intuida che mi vuole bene circondata le paure possono essere veramente alimentate e posso indurre queste paure anche alle volte facendo finta di proteggere vogliono male ma non ti preoccupare ci sono io allora adesso state fatte Eleonora indagini in tal senso cosa succede Eleonora in sei mesi si fidanza con l'ex fidanzato cambia il testamento quindi cosa emerge dagli atti non lo dico io in qualità di criminalista e consulente di parte della famiglia Sprefico emerge effettivamente dalle carte quindi Greta cosa fa abbandona le cure tradizionali per andare a fare altre cure in Calabria questo era il motivo di frizione tra l'ex fidanzato e la famiglia cambia testamento quindi cosa sappiamo Greta è una persona che ha delle turbe psichiche si vede effettivamente anche dei video che voi più volte avete mandato quando effettivamente lei simulava delle crisi spastiche ce li ricordiamo tutti i video di Greta quindi certamente che sono delle paure indotte quelle di Greta ed è anche un altro dato che emerge e si rafforza proprio per queste turbe psichiche di Greta che ogni testamento redatto dalla Sprefico è nullo perché non aveva capacità di testare Greta questa è la posizione ovviamente della famiglia di parte però c'è una cosa da dire Edoardo perché se no non si capisce andate sul testamento perché pensate che è il momento economico ho capito ma spieghiamolo perché non è che tutti conoscano questa storia che deriva che deriva da un testamento che Greta ha beni per oltre un milione di euro Eleonora va significato perché altrimenti non si capisce ha beni per oltre un milione di euro è proprietario di Mezzo Montebobbio Greta a chi sarebbero andati nel testamento questi soldi l'ex fidanzato Eleonora però scusami Barzani ricordiamo insomma non è indagato esatto non solo non è indagato ma se lui aveva già un testamento in mano per quale motivo far scomparire una donna perché se scompare una donna fra l'altro non si trova nella macchina non si trova al corpo non si può nemmeno dire che una donna non ci sia più ok una persona non ci sia più che motivo avrebbe avuto di comportarsi così visto che c'aveva già un testamento in mano non sono ma non è arrivata nemmeno dal notaio no ma rispondete a questa domanda per favore perché se aveva già un testamento magari aveva ripensato al testamento aveva ripensato al testamento voleva cambiare testamento ricordiamoci ricordiamoci che Lietti era la prima domanda che fa ai vicini di casa di Greta per inquadrare proprio la vicinanza tra la casa di Greta e i vicini di casa perché è importante cosa dice ma Greta malevista aveva uno zainetto con sé Lietti chiede sempre lo zainetto di Greta che fine aveva fatto perché e anche i documenti studio Lugli vi dico qualcosa devo cambiare pagina diciamo che in via teorica perché questo signore non è indagato quindi è innocente quindi non possiamo però in via teorica il ragionamento della famiglia regge nel senso che io ho una persona che in qualche modo è fragile so che si sta allontanando non la trovo la cerco ignotte ha fatto testamento io posso avere paura che cambi questo testamento perché ricordiamo che chi non ha figli e non ha coniugge è assolutamente libero dei propri beni li può dare a chi gli pare non ha obblighi non ha legittima 8 milioni di euro diciamo che questa ricostruzione che fanno i familiari è plausibile poi siccome questo non è indagato noi dobbiamo dire va bene allora noi